Buonasera, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con gli speciali rombo di motori dedicati al 45esimo Rally del Ciocca della Valle del Serchio e ormai ci siamo quasi e mancano 10 giorni questa sera e lo ringraziamo perché anche oggi so che ha avuto una giornata impegnativa però essendo pure le 23 passate da poco è qui con noi Rudy Michelini, buonasera Rudy Buonasera e grazie dell'invito No, no, grazie a te, grazie a te e stasera gli manca un po' il partner ideale salutiamo Michele, devo dire persona squisita, lo dico io, non lo dice Rudy, lo dico io che insomma si è scusato mille volte perché purtroppo degli impegni improrogabili gli hanno impedito di essere qui stasera non gli impediranno però di essere al fianco di Rudy all'imminente Rally del Ciocca Allora Rudy, partiamo a bomba nel senso che io quando sei entrato qui stasera ti ho detto Rudy ho parlato oggi con un esperto di cui non farò mai il nome neanche sotto tortura e mi ha fatto 5 nomi, una rosa di 5 nomi che valgono per il Ciocco imminente e poi per tutto il campionato italiano Rally 2022 che si profila, bello come forse non accadeva possiamo dirlo da tanti anni ma hanno fatto i nomi, ma ha fatto i nomi questo espertone Basso, Crugnola, il tuo, Rudy Michelini, Ciuffi Albertini io già preparavo il titolo nei prossimi giorni, un pocherissimo per il Ciocca tu me l'hai proprio smontato subito, però il titolo ce l'ha lo stesso me ne hai aggiunti altri due, li vuoi ricordare a questi cinque? Sì, io metto anche Andolfi e De Tommaso che sono due giovani che l'anno scorso hanno fatto vedere veramente il loro potenziale e quindi quest'anno sicuramente avranno qualcosina in più visto che anche l'anno scorso erano presenti tutte le gare e sono due veramente che accelerano forte e se la giocano anche questi due sicuramente il titolo ce l'ho però sicuro, dai l'hai già capito non so se sei appassionato di western però il titolo ce lo c'hai e l'hai già capito tra questi magnifici sette poi torniamo a parlare anche degli altri nel dettaglio del ciocco che ci sarà fra dieci giorni siamo a meno dieci però tra questi è chiaro che noi saremo un po' di parte ma facciamo un grande tifo per Rudy Michelini e Michele Perna è ovvio no? e senti Rudy intanto nei giorni scorsi noi devo ringraziare anche il tuo valoroso addetto stampa Gabriele Michi abbiamo dato in assoluta anteprima la notizia che fa il campionato italiano assoluto rally così è stato ribattezzato Ciar e lo fai con una macchina tra l'altro ora tra poco vedremo delle immagini splendide che tu ami con la quale hai trovato subito un feeling straordinario ne hai sempre parlato in termini lusighieri l'Apolo Volkswagen sì come parlavamo prima diciamo il livello delle macchine oggi dell'R5 diciamo sono tutte livellate però la differenza la fa sicuramente il feeling del pilota con la macchina quindi io ho provato varie vetture R5 e quella che mi sono trovato sempre bene è stata l'Apolo dal primo momento quindi anche quest'anno abbiamo deciso di continuare con questa vettura anche se tanti la danno per macchina finita perché non so se lo sai insomma l'anno scorso la Volkswagen ha dato... vediamo se l'espertone me l'ha detto dai la Volkswagen ha diciamo interrotto lo sviluppo di questa macchina e quindi diciamo ha uno sviluppo che risale all'anno scorso non ho avuto più sviluppi però io la ritengo sempre una macchina molto competitiva è questa, non abbiamo sbagliato immagini no? no 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 è questa la vettura senti la livrea sarà questa sono colori che per motivi calcistici mi piacciono tanto molto no la cambi? sì lo cambiate perché a me piace cambiare spesso anche durante l'anno stesso è difficile che tenga la livrea perché mi annoio spesso e poi mi piace disegnare questa è bella però allora parte tutto e puoi anticiparci qualcosa sulla livrea come sarà? sì sarà una livrea bicolore cioè metà macchina di un colore e metà di un altro e colori non li puoi anticipare? sì sarà bianca e grigia antracite con una striscia che divide le due parti fluo e quindi sarà una livrea un po' particolare è molto bella a me mi piace da tanti anni disegnarmi le livree da me ah questo non lo sapevo sì sì mi piace anche fare il grafico nei ritagli di tempo e quindi no questa questa qui mi piace veramente veramente bella è un motivo in più perché Rudy questa macchina veramente la senti tua in tutti in tutti i sensi no? sì sì sicuramente che ti disegni la livrea senti vabbè qui vediamo le immagini che ti riguardano insieme a Michele Perna è chiaro che l'altra notizia importante al di là che correrai con la Polo è anche la nuova scuderia che ti accompagnerà no? la nuova la comasca HK Racing dimmi se l'ho pronunciata bene sì diciamo che Pia per questo motivo di mantenere ancora di continuare ancora il campionato con questa vettura qui diciamo abbiamo trovato l'accordo con la HK Racing di Como è una diciamo un team molto valido che ha tre vetture tutte uguali oltre alle Skoda però io ho preferito l'Apolo con la quale ho collaborato già diversi anni fa un team molto preparato già li conoscevi? sì sì già li conoscevo gente molto preparata le vetture sono ben tenute hanno fatto un rialzo molto importante ad inizio anno insomma siamo diciamo tutti abbiamo voglia di vincere anche loro di riscattarsi un po' del passato quindi secondo me abbiamo fatto la scelta giusta quindi avrai un bel supporto mi sembra di capire sì sicuramente non avrai nulla in meno rispetto no 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 ai vari Basso, Crugione se non in più sicuramente uguale agli scorsi anni che io come ben sai ho corso con il team Pia Racing il quale ringrazio per la collaborazione insomma per 6-7 anni consecutivi non ho niente da ridire con questo team è veramente un team che mi ha dato il massimo con loro ho fatto diverse gare sia con diverse vetture non ho mai avuto un problema meccanico ho diciamo un'amicizia anche con sia con la proprietà che con il direttore sportivo però per ovvi motivi che come ho detto prima diciamo mi hanno fatto perché loro l'Apollo l'hanno abbandonata e quindi sono stato costretto a cambiare team però insomma l'amicizia rimane e anche la stima reciproca e anche la stima sì 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 senza ombre di dubbio quindi vediamo cos'è che fa la differenza per te tra per cui ti trovi bene con questa macchina rispetto tu hai corso hai detto con altre macchine la Skoda poi con cosa hai corso anche con tante macchine sì contate anche a tempi recenti diciamo a tempi recenti con Skoda poi ho corso con Fiesta insomma con la Skoda EV1, EV2 ho provato un po' tutte perché con questa ti trovi più attuaggio? ma che non è per tutti così perché mi dicevi una cosa interessante ma sai il feeling diciamo che l'Apollo è una macchina veramente diversa rispetto a tutte le altre che ho guidato è una macchina io la reputo una macchina veramente da rally perché quando ci siedi sopra ha proprio molto l'approccio a guidare una VRC no? le vecchie VRC che erano il top diciamo dell'espressione dei rally è una macchina molto tecnica difficile sicuramente da guidare è molto molto piatta rispetto alla Skoda è una macchina che si muove molto meno ma dici piatta dici effetto suolo quasi sì sì è molto più in terra diciamo a meno spostamenti di carico è una macchina sicuramente più difficile però io dal primo momento ho avuto un ottimo feeling cosa che mi ha dato anche l'Apollo però poi l'Apollo mi manca l'ultimo step di confidenza per poi riuscire a essere competitivo nel campionato italiano che insomma nel campionato italiano sappiamo tutti che il livello è altissimo beh come campionato nazionale penso che in Europa sia sia il numero uno penso e non lo so poi magari sicuramente abbiamo visto anche negli anni passati gente che viene anche dal mondiale diciamo non ha fatto una grande differenza quindi è sempre stato sui livelli dei primo, secondo, terzo quindi vuol dire che il livello in Italia è molto elevato quindi bisogna avere tutto a puntino dal feeling con la macchina al feeling con le gomme al feeling col team con il navigatore quindi deve essere un pacchetto perfetto per fare veramente questi tempi qui ecco a proposito di navigatore o copilota non ci sono penso mai stati dubbi anche in questa nuova avventura del campionato italiano no no stasera non lo abbiamo qui ma quello il rapporto diciamo con Michele Perna ormai di simbiosi, di amicizia va oltre l'abitacolo sì sì è consolidato ormai da tanti anni io ho sempre detto che Michele in macchina per me è un valore aggiunto mi dà qualcosa in più sicuramente che serve per essere fra i primi nell'italiano ecco, caso mai rammarico poi tra un minuto o poco più dobbiamo dare pubblicità dicevi abbiamo un campionato nazionale fantastico, bellissimo e quest'anno ora poi nella seconda parte cercheremo di spiegarvi perché a partire dal ciocco veramente con tanti equipaggi che almeno inizialmente possono giocarselo il rimpianto è che però vediamo, si fatichiamo sempre poi ad approdare alla massima competizione ridata peccato perché c'è il movimento c'è la tradizione secondo me ci sono anche i piloti in Italia ora anche alcuni giovani che stanno venendo su bene hai citato i due di prima Andolfi e De Tommaso ma giugiamo pure il nostro tra virgolette Tommaso Ciuffi quindi perché secondo te Iuri? perché probabilmente la federazione c'è sta dando tanti aiuti non lo metto un dubbio però probabilmente non si focalizza su un solo pilota ma si focalizza su tanti e quindi c'è un disperdio di energie di economico che probabilmente messo su una sola persona probabilmente riuscirebbe a fare un salto maggiore invece si cerca di dare un aiuto non so se è bene o male però su questo aspetto qui si cerca di dare un aiuto più ampio più movimento diciamo sì però poi non dai un aiuto maggiore a una persona a un pilota solo per portarlo poi a altri livelli io voglio fare l'avvocato della federazione quando torniamo dalla pubblicità e ti faccio già la domanda ma non è che in realtà in questi ultimi anni è mancato quel riferimento che tu dicevi puntiamo su quello ma mi rispondi dopo la pausa pubblicitaria eccoci qua Rudy Michelini mi devi questa risposta allora io ho fatto l'avvocato un po' della federazione parlavamo delle insomma del fatto che purtroppo gli italiani nel mondiale mancano sinceramente da troppo tempo perché io ti ho chiesto ma non è che manca l'uomo giusto e per cui la federazione ma io no secondo me no abbiamo piloti velocissimi giovani però ci vuole un supporto che duri per diversi anni perché non è immaginabile portare un pilota per un anno solo nel mondiale e sperare che vinca che faccia risultati come altre federazioni estere portano i piloti nel mondiale le portano per 1, 2, 3 anni al terzo anno e si comincia a vedere risultati però deve essere una cosa consecutiva deve essere che devono fare tutte le gare i frutti vengono alla fine se te lo porti per un anno solo in un anno e poi vedi che non fa risultati cioè non arriveremo a niente con questa direzione qui e sicuramente le possibilità ci sono i piloti ci sono quindi secondo me dobbiamo cambiare un po' l'approccio della federazione e i nomi sono quelli che mi sembra che abbiamo fatto nella prima parte a grandi lì sì sì Crugnola Andolfi De Tommaso sono veramente ciuffi non metto un dubbio sono questi ragazzi diciamo più o meno giovani perché questo Crugnola non è che ha 20 anni se non sbaglio ha 32-33 anni però nel rally sei sempre abbastanza giovane sì sì sicuramente è sempre andato forte uno veramente che merita posso dire una cosa di Crugnola che noi la prossima settimana andremo in onda ve lo dico subito per motivi vari non andremo in onda il mercoledì sera ma il giovedì sera alle 23 quindi saremo proprio alla vigilia del rally del ciocco che si correrà venerdì 4 e sabato 5 marzo e nei nostri studi ci sarà proprio Andrea Crugnola credo tra l'altro col suo navigatore torneranno a trovarci beh c'è scaramanzia se vogliamo anche nel mondo del rally perché due anni fa Andrea venne da noi e poi vise il ciocco sicuramente torna volentieri credo senti no ti piace questo ciocco 2022 45esima edizione il ciocco mi piace sempre in qualsiasi maniera in qualsiasi prova che vengono fatte Valerio come abbiamo detto è un buon tessitore si è bravissimo è un organizzatore veramente in gamba abbiamo un'amicizia ormai che da anni e tutti gli anni ci stupisce con innovazioni e con un'organizzazione perfetta quindi quest'anno ci sono Puglianella diciamo che ritorna approfitto per ricordare nella prima tappa di venerdì 4 Massa Sassorosso quindi prova mitica Puglianella e Careggine poi nella seconda tappa del sabato mentre sono partite le immagini del 2021 il ciocco Massa Sassorosso Careggine Renaio di nuovo il ciocco Massa Sassorosso Careggine e Renaio gli orari sono partenza venerdiale 14 e 15 arrivo intorno alle 19 e 15 il sabato si riparte alle 9 e 15 e si arriva poi alle 17 partenza arriva al ciocco siamo ancora purtroppo un po' in ambito pandemico speriamo davvero dal prossimo anno di poter tornare mi viene in mente quelle belle partenze che mi dicevano in quel discorso ad esempio Andreucci non amava però sul lungomare di Forte De Marmi e l'arriva a Castelnuovo cioè danno sinceramente anche un altro respiro alla tezza un qualcosa in più che insomma vedere posti e girare un po' posti e non focalizzarsi solo sulla Garfagnana fa bene a tutto sia le persone nuove persone che non hanno mai visto il rally ti affacci su zone che i rally sono meno vissuti quindi fa piacere però va bene dai sicuramente uno step in più rispetto all'anno scorso è che sono rimentato un po' i climatraggi e questo fa bene perché insomma l'anno scorso era veramente veramente corto un italiano che durava solo un giorno con 100 km di prove speciali adesso siamo a 120 e passi sì 120 130 quindi diciamo che stiamo ritornando un po' alla normalità tra l'altro mi diceva proprio stamani Valerio Barsella col quale ci sentiamo quasi tutti i giorni che le iscrizioni sono prorogate fino alle alle 23 ma ha fatto anche un messaggio spiritoso 23 e 59 e 59 di venerdì sera comunque mi dice che insomma le cose stanno procedendo bene quindi e poi magari giovedì prossimo vi daremo anche tutti i dettagli di come Noi TV seguirà come sempre il rally del ciocco senti allora si profila un bel campionato Rudy dove possiamo dire che insomma anche tu se siete i sette magnifici sette vuoi giocartelo fino in fondo sì quest'anno l'italiano il Cier è formato da gare solo di asfalto quindi per me è un vantaggio visto che non sono un terraiolo e quindi sì sicuramente ho qualche chance in più io spero di riuscire a farlo tutto al momento ho confermato cinque gare solo su sette ma ho la speranza di definire anche le ultime due in breve tempo ecco parlando del rally del ciocco in generale noi la sera adesso facciamo il ciocco story siamo arrivati tra l'altro al 2017 speriamo di farcela da qui alla corsa di quest'anno tu hai disputato credo tante edizioni del ciocco sei andato diverse volte sul podio ce n'è una in particolare che ricordi con piacere c'è qualche aneddoto di questi anni sulle strade di casa perché queste comunque sono le strade di casa ovviamente anche per Rudy Michelini no diciamo che sono sempre state edizioni bellissime io sono due volte tre volte a podio due ho fatto due volte secondo assoluto e una volta terzo mi manca la cilicina sulla torta no ma diciamo sempre belle belle bei ricordi in particolare ti dico la verità no anche l'anno scorso peccato per aver toccato una foratura però insomma il ciocco è sempre una gara molto tirata con prove che diciamo che ormai i piloti conoscono molto bene quindi i distacchi sono minimi quindi bisogna dare il massimo ogni anno per arrivare sul podio sarà anche quest'anno difficile se non più degli anni precedenti quest'anno c'è una prova diciamo nuova che è Puglianella che è una prova che conosco la vecchia roggio che non si fa dal 2005 mi diceva Valerio Barzelli sì l'ho fatta anch'io nel 2005 però correvo con 106 n erano altri tempi diceva il rally del ciocco un certo Piero Longhi possiamo dire che è una prova che sicuramente vedremo dei distacchi un po' visto che è una prova nuova un po' per tutti farà un po' di distacchi mentre le altre sono abbastanza conosciute e grandi distacchi non le vedremo quindi secondo me sarà combattuto fino all'ultimo chilometro tra l'altro mentre continuiamo a vedere queste belle immagini dell'edizione 2021 se gli italiani non vanno al mondiale il mondiale viene a rally del ciocco perché lo scorso anno vinse un certo Thierry Neville no? eh sì avere avuto Greg Brain Thierry Neville questa gente qui dimostra appunto quello che dicevi prima grande livello visti da vicino come sono questi questi grandi campioni ti conferma che potremmo farcela anche noi con un'altra programmazione alla fine sì sicuramente non restando il grande valore di questi piloti indiscutivi sono piloti molto che poi quando sono fra noi sono persone molto alla mano tranquillissime ci si scambia bene anche due parole durante le prove speciali sono piloti veramente veramente in gamba però abbiamo visto che l'anno scorso è vero che ha vinto però con distacchi minimi rispetto agli italiani quindi vuol dire che il livello il nostro livello è veramente veramente alto a proposito di distacchi minimi dopo tre mesi circa torni no meno meno due mesi torni sulle strade del ciocco dopo il ciocchetto lì è stata una grande battaglia con Tommaso Ciuffi no? sì sì è stata una gara è stata giocata proprio sui decimi quasi sì è stata una gara combattuta molto divertente era già un po' che io non montavo macchina è stato qualche mese fuori dalla macchina per problemi di lavoro e non pensavo ti dico la verità di essere subito lì in alto anche perché eravamo con la Skoda e quindi non pensavo di avere subito un fili così immediato ma è stata una gara molto divertente abbiamo lottato fino a un fondo con Paolo Ciuffi con Tommaso Ciuffi e Paolo insieme e ci siamo divertiti poi l'ha vinta lui per pochi secondi però dai sono rimasto contento anche di arrivare secondo assoluto Senti Rudy Michelini Michele Perna l'Apolo quando arriva nei prossimi giorni l'Apolo con la livrea abbiamo capito bianca e grigia sì sì l'Apolo diciamo che faremo una giornata di test la prossima settimana proprio prima dei giorni della gara e nonostante che sia una macchina che conosco bene però è di un altro team e quindi fare anche tutte le regolazioni varie regolazioni anche se insomma diciamo il capomacchina è il capomacchina che avevo in PA quindi conosce bene i miei assetti conosce bene le migliorazioni quindi mi immagino di trovare una macchina molto simile a quella che dicevo prima quindi però il feeling va ripreso subito faremo un po' di chilometri anche per provare per provare il feeling con le Pirelli insomma ci sono varie cose da provare e riprende un po' il feeling per essere subito pronti sulla prima prova dici Pirelli e naturalmente viene da pensare che se tutti hanno le stesse gomme questo probabilmente rende il campionato ancora più incerto no? sì da quello che ho capito diciamo che i pretendenti al titolo almeno tranne qualche che esplora l'ultimo cambiamento dovrebbero essere tutti con Pirelli quindi gommati Pirelli gommati Pirelli quindi come dici te è un'altra cosa che ti porta a livellare ancora di più ma è la bellezza dello sport perché se poi c'è uno che ha un pacchetto nettamente superiore al di là della bravura che può avere può essere anche relativamente interessante per chi segue no? vero siamo arrivati in chiusura Rudy come vedi il tempo è volato via ci siamo sciroppati questi 22 minuti in un batter di ciglia io ti ringrazio un bocca al lupo grazie a voi sempre un piacere essere qui a noi grazie a te io ricordo che allora la prossima settimana torniamo il giovedì sera quindi proprio alla vigilia del rally ripeto qui nei nostri studi il campione italiano aiutami 2020 no? Andrea Crugnola se non ricordo male 2021 passo campione italiano 2020 Andrea Crugnola che torna a trovarci credo con il suo navigatore e poi i sararelli del ciocco giovedì prossimo vi daremo tutti i dettagli su come seguiremo questa bellissima corsa con Rudy Michelini e tutti gli altri campioni che ne saranno i protagonisti grazie a Rudy grazie di là l'alvetro anche a Matteo Bedini appuntamento alla prossima settimana a giovedì buonanotte grazie a tutti a tutti a tutti a tutti Grazie a tutti.